Conclusa la fase dell'istruttoria del bando Domo riparte, progetto varato a Domo d'Ossola dall'amministrazione comunale per aiutare finanziariamente artigiani e commercianti schiacciati dal peso della crisi economica causata dal coronavirus. La prossima settimana gli uffici comunali avvieranno l'erogazione dei fondi, sono 110 le attività economiche situate sul territorio domese ammesse al finanziamento a fondo perso di 1.000 euro, somme di denaro che arrivano in parte da fondi pubblici, altri raccolti attraverso donazioni private. Complessivamente sono stati raccolti quasi 140.000 euro, 139.315 per l'esattezza, 110.000 lo stanziamento deciso dall'amministrazione Pizzi, il resto è arrivato al fondo aperto presso la fondazione comunitaria del Verbano Cusiossola da privati cittadini, infatti oltre al comune hanno partecipato al progetto singoli cittadini con donazioni minime anche di 10 euro ma anche attività economiche della zona che hanno però scelto la via dell'anonimato. Tutti alla fine avranno contribuito ad aiutare commercianti e artigiani le cui attività risiedono nel territorio domese che hanno subito i pesanti effetti del lockdown della scorsa primavera. L'ente di diritto privato preseduto da Maurizio De Paoli è stato il collettore di tutti i soldi. Il fondo istituito presso la fondazione comunitaria del BCO attraverso la piattaforma raccolte donazioni della fondazione Cariplo permetterà ora agli uffici comunali di effettuare il versamento sul conto corrente dei beneficiari. Nelle scorse settimane tutte le domande presentate sono passate prima al baglio degli sportelli comunali, poi la commissione composta appunto dal comune di Domodossola e fondazione comunitaria del verbano Cusiostola ha detto l'ultima parola circa l'ammessibilità delle domande al finanziamento. Per la cronaca va detto che le attività economiche che hanno partecipato al bando sono molte di più dei beneficiari. 78 infatti sono risultate essere quelle che non hanno potuto beneficiare di alcunché. Si tratta per lo più di attività che non avevano tutti i requisiti richiesti dal bando.